Penso che questo tipo di problema ci può essere un po' dappertutto, una signora è successo, mi dispiace ovviamente dal punto di vista umano per la signora, però può succedere anche a noi cadendo giù di qua di inciampare, non è che possiamo dire che è colpa del gradino. Alcune volte sì, è vero, sull'autobus ci sono delle frenate, però quello c'è un po' dappertutto, credo che, meno male i mezzi sono gli stessi in tutto il mondo, non credo che più di così, più che mettere delle cose a cui tenersi, andare piano. Mi dispiace molto, vorrei capire come mai è potuto accadere. Esiste un problema a sicurezza di questo tipo? Assolutamente, probabilmente sul pullman non c'era la possibilità di sedersi come si dovrebbe per tutti quanti e stai in piedi, mi dispiace. I bus adesso sono un po' obsoleti, io per esempio sono invalido e molto spesso non trovo proprio la postazione per gli invalidi in certi punti. A certi pullman non c'è, bisogna anche vedere l'autista, magari davanti gli hanno frenato davanti, qualcuno fa per attraversare, ci sono tante situazioni. Può succedere. Sì, può succedere, non penso che sia colpa di… poi c'è l'autista che guida meglio e quello che guida peggio.